Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, torniamo a parlare di Superfoodies anticipazione veloce di quello che accadrà ne dobbiamo aprire 40 a noi ne mancano 4 ovvero Spin Girl, Chimichicks, Mango e Ladyfra poi con calma, adesso vi facciamo vedere quelli che abbiamo Eccolo SuperM papi Sì, non ero sicuro Sì, perché lui era fissato che SuperM era Cioè era super fissato che SuperM era fissato E che non ce ne avevamo Qua all'interno abbiamo il gioco 1 nella scatola di metallo e il gioco tipo dell'oca, dei Superfoodies Qua c'è la scatola di metallo che potete trovare all'eslunga Insieme al libretto impariamo a mangiare Ripeto, ce ne mancano 4 Speriamo di trovarli Sarei vivamente interessato E facciamo la solita gara dei tienili bene questi che li dobbiamo buttare nella carta Allora, abbassiamo, finila di qua Così, angolizziamo, abbassiamo la telecamera Così incontriamo i doppi Qui, mettiamo queste, facciamo spazio Poi, perché devi lanciarli? Allora, per adesso io devo guardare i nomi perché non mi ricordo Just and Fish e Big Nanas Che abbiamo, assolutamente Ne apro uno anch'io La muffa! Bella la muffa Questo qui ce l'abbiamo A tatto Allora, vediamo cosa ho trovato io Si sta abbattando le bustine E infila la mano, no? Che si rompe la scatola Allora, io ho trovato invece Io la uso per, praticamente, sopra la scatola Ci metto i libri Esatto Ed è difficile Gara di doppi Bruco Bruco Quindi per adesso sono tutti a uno È carino Credo che lo userò per fare la streghetta Oh streghetta Ne apro uno anche io No, dai È bruttissima Cos'hai trovato? La bevuta stata però Bananix Oh, quello serve a qualcuno Vabbè che tutti servono a qualcuno Qui abbiamo Bananix E Lumax Sì, cioè Lumax Arachidei No, è pistacchio È pistacchio, scusa È pistacchio Che si chiama Che è uno dei miei preferiti Pistacchio Si chiama pistacchio E pistacchio si chiama pistacchio Questo è grosso Chissà che cosa sarà Io ne ho uno grosso Tu? Io so che uno di quelli Diventerà Andrà a due Uno andrà a due Oh, che schifo Proprio Lumax È orribile È il peggiore Lumax È proprio il più brutto Questo invece Io ho trovato Super M Anche un altro Tornerà avanti Mi sa che dobbiamo fare Un po' di spazio Il Bruco Il Bruco passa a due E la classifica Si sta Delineando Vediamo se qualcuno Poi subentrerà Al volo Per il momento Vincono Bruco Che si chiama Brux E Lumax I due cattivi I buoni Devono recuperare Infatti Just in speech È arrivata Per far recuperare I buoni Che cos'è? Vai Cosa hai trovato? Mango Mango Non ci credo Guarda cosa ho trovato io Aspetta Sei troppo vicina Guarda cosa ho trovato io Mango Mango Di coppia Va bene Uno mango Facciamo che la classifica Rimane così attiva Tieni Questo Lo metto in mezzo Perché è speciale È speciale Ma tu pensi Ma quello è nuovo Non lo devi mettere dietro Vabbè uno lo mettiamo via Perché ci mancava Dai E quindi ci mancano tre Pronta Alziamo un attimo la telecamera Sennò tutti non ci staranno mai dentro l'inquadratura Questo cos'è? E' uno nuovo Uno nuovo Spingirl Spingirl Che bello Diventa quasi uno dei miei preferiti È una femmina papi Diventa quasi una delle mie preferite Bellissima Devi dirla al femminile E anche lei finisce dentro la scatola Lumac Che schifo ancora Lumac E quindi ce ne mancano due Quindi ricapitolando Intanto che tu ti dai da fare Apri Ci mancano Perché hai fatto Le di fra E E Mangor l'abbiamo trovato E E E Cimicix Ah sì Cimicix Tanto qua è andato fuori fuoco Nel suo intervimento Madre Gaia Maggi Subito Tac Dopo glielo portiamo Sì Quindi questa rimane qua In piedi Tanto non ne troveremo più di un'altra Sicuramente Madre Gaia è più raro Oh e che Appena trovato Mango Un altro Che è stranissimo Perché quando vi mancano Sembrano rarissimi Invece poi Arrivano Poi quando le trovate Ne trovate un sacco Carrot Space Carrot Aspetta C'è qualche rottura Non ne abbiamo trovati ancora di rotti Perché ogni tanto succede Sì Sono cose di plastica Ti ricordi che ce n'era Non mi ricordo Però ce n'era uno Che si era rotto Si era diviso Il kiwi Si era diviso Sì il kiwi è vero Ma succede Quando ne stampano così tanti Tutti in plastica riciclata Comunque Possono tornare Nella plastica riciclata Cos'è? Ce ne manca uno Ce ne manca uno? Cos'è? Di fra ci manca Allora abbiamo trovato Cimicix Facciamolo vedere bene Cimicix Ma Mango ci mancava Adesso uno è via Quindi diciamo che ha il vantaggio di uno Mango Ricordiamocelo Con il mantello Radix Oh Radix che è uno di quelli un po' rari Vediamo dove lo mettiamo Per il momento lo mettiamo qua Radix Un altro Radix Due Radix Appena arrivato Appena addoppiato Dai le di fra Manca solo lei Bananix Bananix Mettiamo qua Bananix Tra me sono diventata Non so Ne apro uno anche io Eh mi sa che ci siamo quasi Pistacchio Tu hai trovato invece Grana Boom Cioè il melograno Che ci stava arrivando anch'io Il frutto Cos'è? Un altro melograno Un altro melograno Ciao Alfa Dometico E' venuto a sbriciare cosa stiamo facendo Perché forse è pronto da mangiare Dobbiamo andare Però finiamo prima di aprirvi tutti Io ne apro un altro Ma non ci posso credere dai Mango? No Che cosa? Una lumaca Ancora? Beh io ho trovato Muffix Che mi piace tantissimo Ve lo faccio rivedere Questo è troppo bello E va qua E direi che La lumaca Che sembrava Acidli Acidli E ben trovati tutti Acidli lo mettiamo qui A fianco a Carrot Che ce n'erano solo Cinque difficile Ricordiamoci che La patata è Un altro E in vantaggio di un altro Quindi va a quattro In realtà E? Il mango scusa Il mango va a quattro Perché noi l'abbiamo messo via Oh spingerla Ah spinger Sì Un'altra spinger La mettiamo qua in mezzo La vedo dura Ne manca uno Quanti ne mancano Ad aprire? Boh Sa che justice pitch Justice pitch va a tre Beh ancora qualcuno c'è Basta Sono solo Tre Quattro Quattro Durissimo Non ce la faremo Sarà difficilissimo Justice pitch E che va a quattro Oh È successo quello che volevano Succedesse Questo è arrivato senza braccio Questo va buttato direttamente Ma non c'è proprio No la bustina è vuota Niente Questo è arrivato senza braccio Quindi io direi che ne manca uno E a questo punto ha sicuramente vinto Il lumacone Lumax Come dei doppioni Al secondo posto Mango E al terzo Justice pitch Mango perché uno l'abbiamo messo via E quindi Carissima Ce ne manca uno A questo punto io credo che Lo otterremo con gli scambi E faremo un'ultima versione Un ultimo video Con la collezione completa Perché già ho sentito che qualcuno Ce lo potrebbe dare E quindi faremo la collezione intera Non aprendoli Perché basta Non credo che ne avremo più da aprire Questi li distribuiamo ai nostri amici Già subito Quindi Beh grazie per averci seguito Iscrivetevi al canale Condividete Mettete un like Ricordatevi buoni in scuola Da portare a scuola assolutamente 4,99 la confezione di metallo Oh mi alzo E la seduta E buona collezione Quindi Vi sentiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao